L'Abruzzo è stato escluso dalla graduatoria finale del bando di ricerca del 2021. A renderlo noto è stato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Pescara il deputato abruzzese Luciano D'Alfonso che ha chiamato in causa la Regione Abruzzo. È un capolavoro di disordine, di sciatteria e di minimalismo poiché la Regione ha dimenticato di istruire le candidature dei giovani ricercatori abruzzesi che avevano candidato i loro progetti per la ricerca scientifica finalizzata. Come in tutte le Regioni i ricercatori abruzzesi hanno avanzato le loro ambizioni di ricerca attraverso la Regione e al Superiore Ministero. La Regione doveva certificare la natura di quei progetti come natura di progetti finalizzati. Regione Abruzzo ha dimenticato, ha omesso. Io escludo che non abbia voluto perché so che sta finanziando pareti e mura di ricerca scientifica nelle città abruzzesi. In questo caso si trattava di progetti da realizzare, di ricerca applicata, di ricerca finalizzata. La Regione ha omesso, ha dimenticato, non lo ha fatto. Le ragioni possono essere il disordine, la non comprensione, la sciatteria, la dimenticanza. In ogni caso l'ordinamento ha avuto un buco. Adesso come si agisce? Primo proviamo a recuperare le risorse del 22-23. Secondo evitiamo nel futuro che la Regione faccia chino di tacco. Cioè quella specie di prepotente che quando voleva si attivava, quando voleva si addormentava. Noi vogliamo una Regione sempre sollecita, sveglia e capace di istruire. D'Alfonso poi ha annunciato che ha già presentato sul tema una interrogazione parlamentare. Adesso seguirò il seguito di recupero di cui ha bisogno la comunità di ricercatori. Farò in modo, dedicandomici i centimetri che posso ce li metto, nel cercare di recuperare il 22-23. Ma per il futuro faremo in modo che i ricercatori possano anche dialogare direttamente col Ministero, senza passare per la Regione Ghino di tacco. Grazie a tutti.